diciamo la verità in un mondo in cui lo sport è una macchina talmente ben messa in moto che gli appuntamenti al fine settimana erano una compagnia fondamentale vedercene improvvisamente sprovvisti ci fa ripiombare indietro di almeno dieci anni soprattutto se il coronavirus ha interrotto una stagione nel momento più bello prendiamo il futsal femminile per esempio dove c'è una squadra la poliesportiva bitondo quella del presidente silvano intimi che ci stava facendo sognare in grandissimo quel traguardo chiamato a due e così quando mancavano sei partite alla bandiera scacchi le loncelle vantavano 60 punti in cascina sei in meno delle battistrada new cup san michele che però ha una partita in più e tre in più dell'altamura terza in classifica tutto frutto di un cammino pressoché perfetto da settembre a dicembre e purtroppo con qualche schicchiolio di troppo da gennaio fino a marzo adesso però la domanda da porsi e se e quando si riprenderà abbiamo fatto un cammino importante spiega comunque il direttore sportivo nero verde matteo caracciolo perché la società ha lavorato bene su tutti i fronti il ds ammette però c'è mancata un po di in esperienza nell'effettuare alcune scelte ma per il futuro però le idee sono abbastanza chiare perché ci dice la società ha voglia di crescere e di fare bene che ci dice la società ha voglia di crescere e di fare bene